Musica Per Alessandria oggi nuovo appuntamento con Dentro la Notizia in compagnia di Gigi Moncalvo. La vicenda del crollo del ponte di Genova non riguarda solo il capoluogo Ligure, ma ha ripercussioni anche in provincia di Alessandria. Cosa ne pensi? La provincia di Alessandria attraverso il Presidente dell'amministrazione provinciale ha fatto un comunicato dicendo abbiamo bisogno di soldi perché gran parte del traffico grava su di noi. Io lo vorrei vedere intervenire su altre cose molto più terra a terra. Ad esempio se voi arrivate da Torino in autostrada o dalla Voltri-Sempione e vi trovate di fronte a una situazione nuova e non la sapete, cioè quella che chi vuole andare verso Genova e soprattutto verso il Levante non deve andare dritto seguendo l'indicazione Genova, se no finisce a Voltri, finisce a Pra, finisce nel grande confusione, ma deve girare verso Milano per poi immettersi sull'autostrada per Serravalle e fare la vecchia camionata. Sapete quanto ci hanno messo quelli della società che gestisce quella rete autostradale prima di mettere il cartello Milano-Genova? Ci hanno messo 25 giorni, pensate un po', altro che il polmone di traffico, alternative, passiamo dentro l'Ilva, passiamo dentro il porto, eccetera. Ecco, questo qui è il risultato di quale rispetto hanno nei confronti degli automobilisti. Ci sono due personaggi chiave della rete autostradale italiana che vivono in provincia di Alessandria. Di uno, Beniamino Gavio, si parla poco, mentre dell'altro, Fabrizio Palenzona, non se ne parla per niente. Come mai? Ci hanno messo i giornali 4 giorni prima di scrivere il nome di Benetton, no? Mi riferisco al Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, non mi riferisco certo a giornali più indipendenti come Il Fatto e La Verità. Ci hanno messo 4 giorni perché? Perché incassano alcune centinaia di milioni di Euro, per la pubblicità della società autostrade, sotto varie forme, non solo per gli straccetti di Benetton e i poloverini, ma anche dalla società autostrade stessa, che è una bella rete di pubbliche relazioni. Avete visto che nel primo comunicato nemmeno facevano le condoglianze alle famiglie, se ne sbattevano dei morti, anche se in quel momento non erano 43, ma erano già tanti, hanno fatto la festa cortina, la doppia festa. Quei giorni c'è stata un'altra festa di Ferragosto, che non è stata citata ai giornali. Sapete che la famiglia Prodi, con tutti i fratelli, si riunisce a Ferragosto per una grande cena. Pensate che sia stata disdetta quella cena in segno di lutto. Eppure Prodi sa qualche cosa di quell'assegnazione delle concessioni ad autostrade. Ma veniamo a Gavio e Palenzona. Allora, il signor Gavio ogni giorno che dia manda in terra, ogni giorno, incassa, grazie alla sua rete autostradale, che è la seconda come quantità di chilometri, incassa 3 milioni e mezzo di Euro. Avete capito bene, non è un errore. Ogni sera incassa 3 milioni e mezzo di Euro. Direte, ma c'è anche il Telepass, lo prende dopo. Telepass è una società mista tra la società autostrada, cioè i Benetton, e un pezzetto di Gavio. Quindi 3 milioni e mezzo. Benetton invece ne incassa 5 milioni e mezzo ogni sera. Ecco, vedete perché non vogliono che venga disdetta questa concessione. Mi riferisco ai Benetton. Notate nelle conferenze stampa dei Benettono, nelle interviste, loro si comportano come se non avessero colpe, come se non ci fosse in piedi la revoca della concessione. Parlano, no, il ponte lo costruiamo noi. Vanno avanti come se non fosse successo niente. Perché non vogliono perdere quella gallina delle uova, toro. Vi rendete conto? 5 milioni e mezzo di Euro cash ogni giorno. Beniamino Gavio. Beniamino Gavio, ereditato da quel genio di suo padre, Marcellino, e da suo zio, questa rete autostradale. Ma l'ha fatta fruttare il gruppo Gavio, non solo per le autostrade, nel corso di pochi anni è passato da 1,9 miliardi di Euro di fatturato a 3,9 miliardi di Euro. Le autostrade sono un gettito notevole. Io, a Beniamino Gavio, non mi sento di attribuire nessuna responsabilità sul crollo del ponte di Genova, non è un trato di autostrada che dipende da lui o dalla sua concessione. Però voglio fargli un appello e prima di fare un appello voglio farlo anche a un'altra persona di cui parliamo. Fabrizio Palenzona, l'impunito, quello che non figura mai, quello che non viene neanche citato dai giornali. Sapete chi è Palenzona? Palenzona è il presidente dell'Aiscat. Aiscat che cosa significa? Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade Trafori. Aiscat. Quindi quando il ministro Toninelli diceva abbiamo ricevuto forti pressioni, l'ha detto alla Camera, per non permetterci di revocare la concessione o di contestare la concessione, quando tutti gli hanno chiesto faccia i nomi, fai i nomi, fai i nomi, a un certo punto è uscito un articolo sul Corriere che diceva sì, le pressioni ci sono state da parte dell'Aiscat. Ma non dicevano come si chiama il presidente dell'Aiscat. Cos'hanno? Paura. Le pressioni le può fare Palenzona, con il suo peso, non solo i suoi 140 kg di stazza, ma con tante cose. Eh sì, è Palenzona il presidente delle concessionarie delle autostrade italiane. È Palenzona il presidente anche di quel tratto di autostrada. È Palenzona che ogni anno va a battere il pugno sul tavolo del governo e chiede l'aumento delle tariffe. Un aumento che è ben al di sopra da oltre 20 anni dell'inflazione, dei tassi di inflazione. È lui che va per conto di Gavio, ma soprattutto Benetton. È lui che è stato messo e poi tolto dai Benetton alla guida degli aeroporti di Roma. È il presidente dell'Associazione Italiana delle società autostradali, dei concessionari. Ebbene, noi, a questi due signori, Palenzona e Gavio, senza attribuire loro colpe specifiche sul ponte, perché formalmente Gavio non c'entra niente, Palenzona come presidente dell'Aiscat, ecco, chiediamo di fare due cose. A Marcellino Gavio, che ha una famiglia, che ha dei figli, di mettersi una mano sulla coscienza. Siamo certi che in questo mese abbia fatto controllare la stabilità, lo stato di manutenzione, la solidità del calcestruzzo, dei ponti, dei viadotti e delle gallerie e della rete autostradale di cui è concessionaria. Ebbene, noi lo preghiamo mettendosi una mano sul cuore e se per caso gli sono arrivati dei rapporti o dei test un po' critici, di voler provvedere al più presto con tanti e tanti lavori, anche se ci sono da spendere dei soldi. Se noi dovremmo fare delle cose, dei rallentamenti perché ci saranno dei lavori, le faremo volentieri per la nostra sicurezza. Non vogliamo entrare nelle gallerie o passare sui ponti facendoci il segno della croce. Ebbene, a Palenzona dico un'altra cosa, di mettersi anche lui una mano sulla coscienza. Tutte le domeniche va a messa, a Pozzolo Formigaro, anche lui ha due figli. Mettersi una mano sulla coscienza. Palenzona sa e può dire ai Benetton di farla finita con questa manfrina, di farla finita con questa commedia, di farla finita con i Toti, presidente della regione, noi Liguri, ma che Ligure che non è neanche Ligure, l'architetto Piano che fa un disegno su un tovagliolo al ristorante e poi il progetto, di farla finita con questa storia. Palenzona ha l'autorità, il peso, non solo in chilogrammi, per dire ai Benetton fatela finita, chiudiamoci in una stanza, guardiamoci negli occhi, smettiamo di contarci delle balle, non importa se la revoca può essere fatta, se la nazionalizzazione non può essere fatta. Qui il problema è che ci sono all'opera gli avvocati, non gli ingegneri e i progettisti, ci sono all'opera addirittura i governi stranieri. Quando Tria l'altro giorno, il ministro dell'economia, è andato in Cina, sapete di cosa gli ha parlato il presidente cinese? Gli ha parlato del ponte di Genova, perché il 5% delle azioni di una società che ha una forte presenza in Atlantia è la Silk Road, la via della setta, un fondo sovrano cinese che è preoccupato per il suo investimento. Sapete che altre pressioni ci sono? Quelle delle grandi compagnie assicuratrici straniere, in particolare quella della Allianz, che ha ottenuto l'appalto delle assicurazioni di tutta la rete autostradale dei Benetton e in cambio ha dovuto comprare, perché Benetton gli ha detto sì, cosa ci ha dato in cambio, un equivalente di 800 milioni di Euro in azioni di Atlantia. Ebbene, la Allianz non solo è preoccupata perché dovrà pagare dei rimborsi di responsabilità alle persone che sono scomparse, ma è preoccupata per il suo investimento. E ci sono già molte pressioni sul governo italiano, perché? Perché sono queste grandi società di assicurazione, sono queste grandi società finanziarie di investimento che comprano i titoli italiani, che finanziano il debito pubblico. Quindi, se il primo ministro cinese, se il presidente cinese dice al nostro ministro dell'economia non fate scherzi, ricordatevi che noi siamo i padroni dell'11% del debito pubblico italiano, che la nostra società, il nostro fondo sovrano Silk Road è padrone del 5% di quella autostrada, ebbene, avete capito che dei 43 morti purtroppo non gliene frega niente a nessuno. Speriamo di sbagliarci, ma qui sono all'opera gli avvocati e invece dovrebbero essere all'opera gli ingegneri e i progettisti. Con questa amara constatazione ringraziamo come sempre Gigi Moncalvo, Grazie a te, Giammaria Zagner, Alessandre Oggi.